lilly e il vagabondo è un film che uscì negli stati uniti il 22 giugno 1955 distribuito dalla buena vista distribution è il quindicesimo classico disney e fu il primo film di animazione girato nel processo di pellicola widescreen cinemascope la storia incentrata su una femmina di cocker americano di nome lilly che vive in una raffinata famiglia alto borghese è un maschio di cane meticcio randaggio di nome viaggio